I reperti archeologici ritrovati negli anni Sessanta in via Cortile e via Nicotera sono stati raccolti in otto vetrine e sistemati in tre stanze. I reperti sono datati dal VII secolo a.C. all'età romana e sono costituiti da vasi a figure nere e figure russe, bronzi etruschi e campani, ceramica corinzia e ionica, bucchero e ceramica attica a vernice nera. L'antico abitato di Vichequense si sviluppava sul promontorio dell'attuale centro storico, ma poiché la città è cresciuta nel suo stesso tessuto urbano, sono rimaste poche testimonianze archeologiche. Si sono conservate le necropoli datate a partire dal VII secolo al IV secolo d.C., disposte lungo le vie Santa Sofia e via Nicotera, seguendo un asse antico che portava fino a Stabbia. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!